Sì alla tassa di soggiorno dal 2017. A richiederlo il primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che ha proposto durante l'ultimo comitato direttivo del Lanci una modifica alla legge di bilancio. Il governo nella prima stesura della legge di bilancio 2017 aveva previsto di estendere il congelamento dell'applicabilità della tassa di soggiorno che è valido per il 2016 anche per il 2017, cambiando ovviamente i programmi che varie amministrazioni, non solo quella retina, avevano fatto. Da qui è nata l'idea di proporre un emendamento a questa prima stesura della legge di bilancio per il 2017 chiedendo che il 2016 ormai è andato ma per il 2017 ci sia la possibilità di poter applicare la tassa di soggiorno. Il consiglio direttivo di Lanci ha allargato ai sindaci dei comuni e capologo di provincia ha accettato molto volentieri questa mia proposta, l'ha fatta propria e l'ha proposta alle commissioni di bilancio della Camera riunite che non so se accetteranno o meno questo emendamento, comunque se dovesse essere accettato sarà una bella vittoria intanto per il Comune di Arezzo averla proposta e poi comunque deve passare in aula. Quindi l'appello è comunque anche ai nostri parlamentari che in aula, quale che sia la versione d'ingresso alla legge di bilancio del 2017 si attivino per far sì che la tassa di soggiorno per il 2017 sia resa possibile l'applicazione. Le risorse ottenute sarebbero state destinate alla valorizzazione del patrimonio storico e ambientale della città, alla promozione del sistema turistico locale e al mantenimento dei servizi gerogati. Quello che non capiamo soprattutto è il fatto che fino a poche sette mani fa questa poteva essere inserita, stavamo facendo le nostre strategie, convocando i tavoli di governance per poterla gestire, abbiamo fatto già dei progetti che di fatto ad oggi diventano congelati. Oltretutto tecnicamente va comunque anche predisposto dei software sia da parte delle strutture ricettive che dell'amministrazione che abbiamo già acquistato. Quindi di fatto è veramente un paradosso, di colpo ci siamo ritrovati di nuovo a non sapere se tra meno di due mesi la potremo applicare oppure no.